bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video dai 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 e che ogni volta sempre lo stesso discorso perché vuol dire che è venuto un po ma non puoi farlo sotto maiole stai ferma che fai che sei su twitch andiamo allora le uova io le taglio affanculo ve lo dico ragazzi io le taglio così le uova l'acqua fredda però la sua madre che la chiamava gallina aggiungiamo un pochino d'acqua sul tavolo sulla tua testa guarda che mi sputti dappertù ma si può cucinare ma uno che guarda cosa prende sul serio che tu fai cosa è una femmina c'era un cane che poi puzzava di vomito di pesce marcio si chiama nena il si ma lui gli canta ma non è affettuoso con il cane ragazzi ciao culo ma dovresti farlo qui la crema che la aggiungi giorno si toglie questo robo non mangia più non mangia più guarda se donano le gattini non mangio più salame colpa mia colpa mia colpa mia sediti un attimo aspetta ho capito ti devi sedere un attimo ok un momento è arrivato e ha già fatto casino ragazzi iniziamo male ve l'ho detto che ci faremo le grosse risate se vuoi possiamo cambiare che cosa penso che il montenegro sia buono uguale nel senso se ci metti i bicchieri nel perché stai buttando le briciole a terra ma lei va un attimo adesso arrivo vado per un attimo la scopetta arrivo scopetta è appesa la paletta lì in fianco di cosa dai togliti sono eri potter eri potter è la grande maghetto ti levi però cioè guarda cosa ha fatto no ma tu metti la paletta con dentro la m***a eh eh ma lui deve mangiare tanto hai capito ma mi ha ignorato tutti i miei ragazzi che sono venuti di là a dirti una cosa perchè mi ha ignorato ho avvicinato niente mi devo riposare sono già stressata no è un gesto maleducato da fare alle donne quello che ha fatto non si fa e poi le miei ragazzi questi gesti scurrini non si fanno mi chiedo scusa va bene eh porca miseria eh ciao amore mio anche perché lì ci sono quattro fette adesso dammi questa c***a di pizza ragazzi ragazzi aspetta no non la puoi mangiare è caduta per terra perchè non mangia con quelle c***a di mani dai il cibo però buttato così no no non la buttare non la buttare dammi che me la mangio no è caduto per terra ah ma dammi che me la mangio no è caduto mangiati un'altra fetta no me ne frega un c***o sono qua casa io ma che c***o me ne frega ma c'è camminato in giro ma non è caduto al contrario soffi almeno pulisci no sotto pulisci guarda se c'è qualcosa no l'ho detto anche prima poi adesso sono duemila persone ve lo ricordo a tutti finiamo se mi deve fare le facce io preparo l'impasto per la pizza così lievita e poi la facciamo la prepariamo assieme e poi lui mangia la pizza ok va bene salve un po' più lunga perché se lui attacca le 6 mesi vieni ti lega i capelli ok ecco tre no ha ciucciato se l'ha ciucciato adesso voi mi dite se l'ha ciucciato siediti l'ha ciucciato lo devo lavare perché mi fa schifo che mi ciuccio la roba si 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 l'hai ciucciato l'hai ciucciato avete clipato beh diciamo che era notevole questa pasta eh questi maltagliati che hai fatto buoni avevano un loro perché avevano brava 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 non ridere troppo che ti fai tutte le rughette io sono così tutto 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 ah 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 ma perché mi deve fare i politi medi ma perché io devo sempre essere insultato su Twitch e poi mi vado a far un c***o in casa cioè io cosa so uno str***o del quartiere cos'è che senti ti do questo pezzo oh che vuoi mi do un parefantozzi figa se la luce aspetta che è un cane nero vieni bambina adesso la chiamo vieni qua vieni il tuo papà è lui vieni dalla mamma vieni vieni dalla mamma ciao bambina miga era il tuo cane che puzza di vomito media di spettatori mi si è sbloccato tutto mi si è sbloccato tutto mi si è sbloccato tutto grazie Pizzone grazie sacco della Lidl no grazie pepe 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 ma c'è la stanza ma no ma Pizzone va bene anche se è vestita fino qua se mi fa vedere le mine sono 10.000 spettatori lo dico a scoprirsi non lo sai così a scoprirsi e allora cosa sta facendo allora scopri a scoprirsi sono brave tutte smetti questo è da censura ma guarda clipate che cosa a scoprirsi io ti spacco la faccia adesso a scoprirsi sono brave tutte smettila a scoprirsi a scoprirsi sempre se ce la faccio un po' di nostra granella non la toccare la pasta un po' di granella non è utile che fai pertanto loro clipano no aspetta ehi ehi cosa niente niente aah eeeh minchia ancora più eeeh esce la scuola ma va 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 eh si certo Flavia come avere un bambino troppo Ma che c***o stai mangiando? Ma tu non hai chiuso lì Ma sei mangiato la pettiniera A mangiare la buccia Che schifo Ha mangiato la pelle del salmone Certo non dico le parolacce Questa è una cosa buona Poi do dei buoni consigli Questa è la seconda cosa Sto cagando addosso Grazie Grazie